TAKESHI KITANO Era stato annunciato l'acquisto da parte di Harvey Weinstein, ma la notizia è che già gli uffici di New York e Los Angeles sono stati chiusi. Anche per il destino degli ultimi film targati Miramax c'è poco da sperare. The Depth e Last Night sono destinati a sparire. Nuova fatica per Zac Efron, sarà lui il protagonista di Fire, thriller in cui interpreterà un agente segreto della CIA. Zac Efron è fresco di film con Me and Orson Welles, dove interpreta un giovane studente che viene notato per caso da Orson Welles. Vi lascio con il trailer di oggi. Vi lascio con il trailer di oggi. Ma stiamo venendo, lentamente, lentamente, stiamo venendo, per dare loro a sfruttare e dimostrare che la sfruttura può arrivare. C'è un giorno, quando ho venuto a scuola e la mia professione, diceva come a me, c'è qualcosa che io devo dire. C'è qualcuno che vedete a fare una performance, che voleva chiedere a venire a America e fare un po' cose. E' stato pensato, non può essere così semplice. C'è la session senza riuscire. C'è una serie di TV che lavorano da poi, ma scoperte di vedere. Noi hanno capito che stavano a fare leotarde e fuornistia, stavano a ieri, mi pensavo, What is that thing? It was completely new to us, so we had no idea what it was. I was like, I don't think I like this. Is this what I'm going to be doing? I don't know, but what can I say, you know? I knew that my parents would say yes, because in the long term, I would be able to help them. I just feel bad that our family is so poor and we have a lot of siblings. I want them to go to, like, proper school, have, like, tasty food to eat. I used to fish for them, to feed them when my mother was in the hospital. So I asked my parents, you know, if they would let me to go to America, but in my mind I already decided that, you know, I'm going to America, yeah! E questo è tutto, vi aspettiamo numerosi con le prossime novità cinematografiche. A presto! Amare Deesto Amare Maldкая Amare 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 Grazie.